Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi facciamo questo video dove vi facciamo un po' vedere gli ultimi acquisti che mia moglie abbiamo fatto un po' in giro per la rete Questa wet palette l'abbiamo presa da Amazon e trovate il link, vabbè tutti quanti i link direttamente in descrizione Questa penna 3D con i suoi filamenti l'abbiamo presa da Lidl Mentre tutta questa roba che vedete qua dentro, tra l'altro col Corax White che è il primer per colorare le miniature Dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che vi ricordo, vedete il link in suoi impressione E vi ricordo anche il primo link in descrizione per acquistare direttamente da loro Usando sempre al momento dell'acquisto il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% che è buono Ve ne parlo a breve dopo la sigla Come detto vi facciamo vedere un pochino di acquisti che appunto abbiamo fatto in giro Qui davanti ci sono tutte quante le cose che praticamente trattiamo sul canale Perché partendo da di qua e ve lo faccio vedere ragazzi velocemente È una cosa bellina che abbiamo pagato 19 euro in offerta da Lidl Però vi dico anche una cosa Non era la prima volta che mia moglie la vedevamo da Lidl Quindi ci sta che o regolarmente o magari a volte sono anche qualche avanzo di magazzino Le buttano lì sulle ceste della roba Se ce l'avete di sicuro un Lidl io penso in città dove abitate Andateci a dare un'occhiata perché per 20 euro è una penna 3D che lavora abbastanza bene Ovviamente non è di vele professionali da centinaia se non migliaia di euro Però lavora molto bene e all'interno ci sono anche come vedete qui tutti quanti i filamenti colorati Che tra l'altro sono gli stessi uguali identici spiccicati che si possono usare con una stampante a filamento FDM Sono gli stessi stesse dimensioni e vi danno già un po' di colori Quindi alla fin fine è una bella pennettina 3D Che poi vi faremo vedere anche in un video dedicato mia moglie che prova a crearci qualcosa Ed è bellina perché vi consente di fare proprio delle vere e proprie figure in 3D Alla fin fine si ci vuole un po' di mano bisogna saper disegnare Ma se uno è abbastanza bravo e concedetemi i termini skillato, allenato Ci può tirare fuori anche una miniatura, un piccolo scenario, una cosa del genere Anche perché tirarci fuori un barile in 3D oppure tirarci fuori una staccionata Che ne so per giocare a Warcry della GV e cose del genere è perfetta E per 20 euro tra l'altro il motorino che c'è dentro, l'estrusore diventa anche molto caldo E va anche a generare molti gradi per appunto per estrudere il filamento Che è un filamento alla fin fine di plastica di PLA come quelli delle stampanti E ve ne danno un bel po' colorati che per 20 euro secondo me è un acquisto spettacolare Per chi si vuole un attimino inserire, c'è un periodo di manualità nella stampa in 3D E vuole iniziare a provare qualcosa con 20 euro Quindi per me è perfetto Abbiamo preso che poi non sono dalla gioco libreria Semola ma un paio di pennelli Pagati 3 euro per tutto il kit e all'interno sono 3 pennelli per gli acquarelli Quindi per colorare direttamente con acquarelli E anche questa è una piccola spesa fatta appunto insieme a questo qui Perché mia moglie dipinge anche le miniature e quindi abbiamo preso Visto che c'eravamo costretto insieme una spesa piccolissima Cioè fra questo e quel lato un serviva a 30 euro per farvi capire Abbiamo preso dalla gioco libreria Semola a parte il Corax White che c'è ancora da aprirlo Perché ce n'è un altro che bisogna finire Comunque il primer da dare alle miniature, il primer bianco E poi qui tutta quanta la lista dei colori che abbiamo ordinato Che sono qua dentro e ce ne sono un bel po' Sia colori, base color e layer Ragazzi non ve li faccio vedere tutti Comunque sono qua giù dentro e ce n'è veramente tantissimi Abbiamo preso più colori possibili Tra l'altro questo qui è il Technical Tesseract Che è spettacolare per fare Necron ad esempio Perché è un verde tipo fosforescente, bello, veramente acceso E poi abbiamo preso ad esempio il Baraknar Burgundy Il Thousand Son Cioè abbiamo preso uno sbotto di colori che vedete qui nella lista E tutti questi ordinati dalla gioco libreria Semola Che vi ripeto usate sempre, lo vedete in sovrimpressione Il codice sconto Corridan 7 Perché comunque anche sull'acquisto di colori o di miniature Almeno ci avete sempre uno sconto Ci levate le spese postali alla fin fine, non mi sembra poco E tante volte per ordini superiori ai 70 euro La gioco libreria Semola in tutta Europa, non solo in Italia Non vi fa nemmeno pagare le spese postali Quindi c'è niente spese postali più sconto E se magari le dite che arrivate dal mio canale Sicuramente vi tratterà al meglio Questo è un gioiellino che mia moglie lo cercava da un po' di tempo Questa è ufficiale, vedete, ancora ad aprire Una wet palette per tenere ovviamente i colori e le tinte sempre fresche Dell'Army Painter, vi ricordo con l'Army Painter ci collaboriamo Ma questa qui l'abbiamo ordinata direttamente da Amazon Anche perché si era un po' stufata Una di farsela in casa E un'altra che già avevamo fatto vedere in un video precedente L'avevamo presa da Tiger Che anche da Tiger si trovano delle belle così In Organizer, Wet Palette Però comunque chi è meglio dell'Army Painter Che creano pitture per fare cose appunto Per conservare fresche le pitture E quindi abbiamo preso questa Wet Palette Che è molto carina Ed è praticamente un astuccetto chiuso Che si apre E quindi vi tiene i colori dentro al fresco Senza niente togliere a quella della GV Che è buonissima Però in questa non ci mettete solo i colori conservandoli freschi Ci potete mettere anche tutti quanti i pennelli in rastrelliera Quindi è proprio un cofanetto che ce li chiudete dentro In più vi danno anche 50 sheet fogli di ricambio all'interno Quindi è veramente veramente molto buono Vedete infatti anche qui dietro poi c'è elencato Tutto quello che c'è con i 50 fogli appunto Per tenere i colori umidi Più due spugne in cellulosa Che mantengono umidi i colori Quindi ragazzi c'è un boxettino piccolino Ordinato da Amazon Che c'è veramente dentro il mondo Ed è proprio un cofanetto piccolino Poi ve lo faremo vedere in un video bellino Che vi potete portare a giro Con dietro sia i pennelli che i colori Quindi tutta quanta questa roba qui Che vedete che ora ho spostato un po' Anche per spazio che è sempre il nostro problema principale L'abbiamo presa un pochino in giro Sia da Amazon che da Lidl Comunque è sempre bene Come dico Amazon è il negozio secondo me più fornito del mondo Però non fa male ogni tanto andare anche in giro Magari trovi un'offerta che su Amazon non c'è Quindi perlomeno su Lidl O qualche discount particolare Fateci un giro nella vostra città Che magari trovate delle cose belle Quindi ringrazio la giocolibreria Simula Per averci offerto tutta quanta questa roba E ragazzi questi qui sono gli ultimi acquisti Che abbiamo fatto Fateci sapere un po' cosa ne pensate E se dipingete una cosa così Che sia Army Painter o Citadel Prendetela Se volete iniziare la stampa 3D E non ci avete 300 euro da buttare Giustamente Non ce l'avrei nemmeno io Ora come ora Da buttare su stampanti 3D E cose del genere Con 20 euro Se la trovate da Lidl Vi portate a casa Una penna in 3D Che estrude con la stessa potenza Dell'estrusore della nostra Genius Ad esempio E ci potete fare dei lavori Veramente veramente molto belli Dovete avere manualità Però ci fate anche dei lavori Veramente interessanti Fatemi sapere un po' cosa ne pensate E ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi